Grazie a tutti Un viaggio sfidante che stiamo attraversando per diversi venerdì insieme al pastore Ubaldo Braida Stiamo appunto vedendo la ricchezza nascosta all'interno di questo meraviglioso capitolo che contiene dei valori straordinari Ancora oggi continueremo in questo viaggio e affronteremo proprio l'opera dello spirito presente all'interno del capitolo 8 di Romani Ma come sempre facciamo prima di partire anche oggi vogliamo metterci comodi Preparare per bene i nostri taccuini con le nostre matite e prima di tutto questo come di consueto facciamo Prendiamo un buon caffè biblico Cari amici buongiorno Mi invito se ancora non l'avete fatto a iscrivervi al nostro canale YouTube Non vi costa nulla ma per noi è un incoraggiamento a continuare questo lavoro Grazie, grazie di cuore Sta riempendo in questi giorni le prime pagine dei quotidiani e dei telegiornali La notizia del tragico affondamento del veliero, dello yacht Del ricchissimo modo affari inglese e imprenditore Mike Lynch E questo yacht sappiamo è stato investito in pieno da una tromba marina Mentre si trovava all'ancora davanti alle coste valermitane e affondato E delle 22 persone a bordo soltanto 16 sono riuscite a mettersi in salvo Mentre 6, compreso Mike Lynch, sono purtroppo annegate Le indagini sul perché una barca così modernamente attrezzata di 56 metri Con un albero maestro alto 75 si sia inabissata Sono ancora in corso Ma una superstite ha commentato così l'accaduto Mike aveva organizzato questa vacanza con tanto entusiasmo Era felice di averci tutti con lui in barca Mai avremmo immaginato che sarebbe finita così E le parole di quella ragazza racchiudono tutta la sorpresa L'impreparazione Quello che poi invece sarebbe successo Ma oggi ti voglio dire qualcosa che non leggerai mai sui giornali E non sentirei mai in nessun TG Proprio in questi giorni sto leggendo un libro della Bibbia molto ma molto particolare L'Ecclesiaste È un libro unico scritto dal re Salomone Che affronta con coraggio ed estremo realismo il tema del senso dell'esistenza umana Mettendone in evidenza tutta la fragilità Ve ne voglio condividere un piccolo brano Che potrebbe però essere abbinato Al triste destino Del veliero Bécian E del suo proprietario Lo troviamo nel capitolo 9 di questo libro Dove è scritto così Tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze L'uomo infatti Non conosce la sua ora Come i pesci che sono presi nella rete fatale E come gli uccelli che sono colti nel laccio Così i figli degli uomini sono presi nel laccio Al tempo dell'avversità Quando essa piomba su di loro Improvvisa Sì Tutto dipende dal tempo e dalle circostanze Ed allora quanti se E se fossero arrivati il giorno dopo E se si fossero ancorati nel porto come tutti gli altri Ma nessuno su quel veliero Avrebbe mai immaginato Di essere investito frontalmente Da una tromba marina Perché? Perché l'uomo non conosce la sua ora Povero o ricco che sia Ero amico Se questa riflessione ti dà fastidio O ti spaventa Aspetta Non fermare il video Ascolta ancora un attimo Perché questo quadro così crudo del destino umano Che faceva gridare all'ecclesiaste Al predicatore di 3000 anni fa Che la vita è vanità È come correre dietro al vento Trova invece una risposta E una potente consolazione Nelle pagine del Vangelo Dove la paura della morte è superata Perché il dono di Dio Se crediamo alle parole di Gesù È la vita È la vita eterna E non servono né soldi né ricchezze Serve soltanto la fede Ed allora Leggi il Vangelo E la troverai Il Signore ti benedica Ringraziamo i fratelli per questo caffè biblico Torniamo in studio E vi diamo il benvenuto In questo continuo del viaggio Che stiamo affrontando insieme Oramai da tre diversi venerdì E il famoso e meraviglioso viaggio Nel capitolo 8 dell'Epistola Ai Romani L'Apostolo Paolo Scrive questa lettera ai Romani E nel capitolo 8 racchiude Una straordinaria ricchezza Una meravigliosa preziosità Per le anime nostre Per i credenti di ogni tempo E ancora oggi vogliamo continuare Ad analizzare e ad osservare Oggi nella fattispecie Questo è quello che faremo L'opera dello spirito Presente all'interno di alcuni dei versetti Proprio contenuti nel capitolo 8 Di Romani Come già nelle scorse puntate Negli scorsi venerdì Questo viaggio lo stiamo affrontando Lo stiamo facendo Facendoci condurre in qualche modo Dal nostro carissimo ospite Che ha approfondito E che porterà avanti ancora quest'oggi La ricchezza contenuta in Romani 8 Mi sto riferendo al pastore Ubaldo Braida Eccolo qui Pace Ecco l'abbiamo perso per un attimo Pace e buongiorno Ubaldo Benvenuto Buongiorno Michele Pace a tutti Grazie per questa possibilità Che ci concedi ancora Di fare questo viaggio All'interno di Romani 8 E vorrei proprio Continuare questo viaggio Il prima possibile Quindi ti do subito la parola Pastore Così che possiamo continuare E quest'oggi Vedere nella fattispecie Proprio L'opera dello spirito A te la linea Grazie Michele Io sono io che ringrazio voi Per questa opportunità Perché Credo che sia importante Ci sono Dei concetti Che l'Apostolo Paolo Esprime Che sono importanti Per la nostra vita Io ho notato E noto Ma lo vedo anche A volte l'ho visto anche Nella mia Nel mio percorso Di vita cristiana Portiamo dei pesi E delle E delle situazioni Non risolte Perché a volte Non riusciamo a comprendere Quanto La parola di Dio Ci dia autorità Ma anche Anche sulle cose personali Questo non vuol dire Che possiamo usare A nostro piacimento La potenza Che il Signore ci ha dato Per mezzo dello Spirito Santo Ma vuol dire Che comunque Dio ci ha dato autorità La prima La prima forma Di autorità Di autorevolezza Che la parola di Dio Ci dà È proprio sul capire Quello che noi siamo in Cristo A volte Il diavolo è bravo Ma non è solo Opera sua A volte è anche opera nostra Quando siamo un po' Distratti O trascurati Nello studio Della parola di Dio La Diciamo La tattica Del nostro avversario Di quello Non solo è quella di Ingrandire Il suo potere Ma è anche quella Di sminuire Quello che noi siamo In Cristo Ora Paolo dice Che noi dobbiamo Essere umili Ma non dice Che dobbiamo Essere Ritenerci zero Dobbiamo avere Un concetto Sobrio Di noi stessi Quando la parola di Dio Ci dice Che siamo qualcosa Vuol dire Che lo siamo E quindi Quello che siamo È importante Quando noi nasciamo di nuovo All'inferno Questo lo sanno Perché perdono Un'anima Ed è importante Che noi ci ricordiamo Che nel momento in cui Noi siamo Delle nuove creature Vuol dire Che Cristo Abita in noi E noi Siamo radicati in Cristo Quindi Tutto quello che facciamo Tutto quello che diciamo E tutto quello che Viviamo Lo viviamo Lo viviamo Come dice proprio L'Apostolo Paolo Lo viviamo in virtù Di Cristo Questo è importante Questa Questa mattina Voglio Parlare con voi Per chiudere Questo argomento Del capitolo 8 In realtà Io spero Che voi che ascoltate Possiate trovare In queste brevi E incomplete Se vogliamo Lezioni O Meditazioni Lo spunto Lo spunto Un po' Come un antipasto Per iniziare Un pranzo Su questa lettera Ai Romani Vi ricordo Che questa è stata La lettera Che ha portato Martin Lutero Alla conversione Ha fatto scoprire Tante cose La lettera Ai Romani È un'enciclopedia Meravigliosa Di tutte le cose Che potremmo Vivere nel Signore Per assurdo Grazie a Dio Che abbiamo Tutto il Nuovo Testamento Ma per assurdo Se oltre ai Vangeli Avessimo soltanto La lettera Di Paolo Ai Romani Questo basterebbe Per una vita cristiana Esuberante Di cosa voglio Parlarvi questa mattina Leggerò alcuni versetti Sparsi Da un Diciamo Da un limite Che va dal versetto 11 Al versetto 27 Su quello che fa Lo Spirito Santo In noi E anche attraverso Di noi Io voglio Voglio chiedervi perdono Se durante Il mio Parlare Ogni tanto Berrò dell'acqua Perché Nella mia stanza In questo momento Ci sono 32 gradi Quindi probabile pure Che mi abbronzerò Alla fine di questa mattinata Fa molto caldo Qui a Ruvo Quindi perdonatemi Se ogni tanto Berrò Magari non succederà Però ho bisogno Di Di acqua Ogni tanto Va bene Chiusa questa parentesi Climatica Io ho voluto Voglio parlarvi Questa mattina Dell'opera Dello Spirito Sotto tre aspetti Uno In relazione Alla salvezza Due In relazione A quello che noi Viviamo Nella nostra vita cristiana Terzo Perché l'argomento Che Paolo parla In questa Di cui Paolo parla In questo capitolo In relazione Alla sofferenza E questo è anche importante Soprattutto in questo periodo Diciamo In questo periodo Però noi sappiamo Che i cristiani Soffrono Hanno sempre sofferto È importante Guardare la nostra Sofferenza Personale Familiare Ministeriale In un'ottica In un'ottica biblica Giusta Altrimenti La sofferenza Sembra una punizione Ma così non è La sofferenza produce Ma senza entrare subito In questo argomento Partiamo dall'inizio Il versetto 11 Nel capitolo 8 Dice una cosa Scontata Per chi è nato di nuovo Ma che dobbiamo ricordare Dice che se lo spirito Di colui Che ha risuscitato Gesù dai morti Quindi lo spirito Di Dio Abita In voi Colui Che ha risuscitato Cristo dai morti Vivificherà Anche i vostri Corpi mortali Per mezzo Del suo spirito Che abita In voi È importante Che lo spirito Santo Dimori In noi E noi Dobbiamo dimorare In Cristo Lo spirito Santo Non agisce più Come nell'Antico Testamento Lo spirito Santo Nell'Antico Testamento Agiva in maniera Occasionale In alcuni Casi Dimorava Nelle persone Vedi Mosè Vedi Giosuè Però generalmente Non produceva Una vita Così come la Vediamo Una relazione Perlomeno Così come la Vediamo Nel Nuovo Testamento Questa è una cosa Bella Perché quando Gesù è andato In cielo Ha detto Io non vi lascio Soli Vi darò Un altro Consolatore Letteralmente Un altro Come me Quindi Identico a Gesù L'unica differenza Che il corpo Non sarebbe stato Quello di Gesù Ma siamo noi Noi siamo Il corpo Di Cristo E lo siamo Non soltanto Perché Gesù Ci ha salvati Ma perché Lo spirito Di Dio Abita in Noi Ora Indipendentemente Se ancora Non abbiamo Realizzato Il battesimo Dello spirito Santo Però lo spirito Santo dimora In noi C'è una caparra Che ha messo Dentro di noi Per il quale Noi apparteniamo A Cristo Io vi consiglio Urgentemente Di cercare Pienezza Dopo pienezza Una relazione Stabile Intima Continua Con lo spirito Di Dio Non ci accontentiamo Dalla salvezza Nessun figlio di Dio Si accontenta Di quello che Dio vuole dare In maniera Abbondante Quindi Cerchiamo questa Pienezza Cerchiamo la Relazione Poi vedremo Che cosa fa Lo spirito Santo In relazione Alla nostra Vita cristiana Perché Se la nuova Nascita Elimina un problema Fondamentale L'allontananza L'inimicizia La mancanza Di relazione Con Dio Questo non vuol dire Che il nostro Lavoro è finito O meglio Non vuol dire Che l'opera Dello spirito Santo è finita Noi dobbiamo Crescere Il pericolo Della chiesa O di una parte Della chiesa È quella Di rimanere Bambini In Cristo E Paolo Lo evidenzia E anche l'epistola Agli ebrei Lo evidenzia Dovremmo Parlarvi di cose Più grandi Attinenti Alla salvezza Ma non possiamo Perché Alcuni di voi Sono ancora Bambini Che signore Ci aiuti A essere Uomini Fatti In Cristo Quello che dicevo Prima Lo Spirito Santo Dà vita Dà vita ai nostri Corpi immortali Noi siamo morti L'uomo naturale Per quanto si possa Avvicinare a Dio Possa frequentare Una chiesa Possa avere Una certa religiosità Possa compiere Delle opere Di carità È essenzialmente Un essere Morto dal punto Di vista Spirituale Perché Perché appunto Il peccato Non i peccati Ma il peccato Cioè quel fatto Di essere Lontani da Dio Di non avere Un rapporto Di figliolanza Con Dio Fa in modo che Dio non conosca E non riconosca Spiritualmente Queste creature Che pure lui Ha creato Quindi Dal punto di vista Umano Le conosce Certamente Sa tutto Dio sa tutto Di noi Anche l'ateo Non si illuda Che Dio Non conosce Tutta la sua vita Però poi arriva La parola di Dio Il pungolo Di questa spada Due tagli Che penetra Il nostro cuore E lo spirito santo Porta vita Senza lo spirito Di Dio La parola di Dio Sarebbe Qualcosa di inefficace Perché la vita È nello spirito Gesù ha detto Le mie parole Sono spirito E vita Cioè le mie parole Portano vita Perché c'è lo spirito Che vivifica Il vostro spirito E quindi qual è il risultato? Il versetto 15 Voi non avete ricevuto Uno spirito di servitù Per ricadere nella paura Ma avete ricevuto Lo spirito di adozione Mediante il quale Gridiamo Abba Padre Versetto 16 Lo spirito stesso Attesta Insieme Con il nostro spirito Che siamo Figli di Dio Un attestato Quando noi facciamo un corso O prepariamo un curriculum È importante Indicare E dopo Presentare All'atto Del concorso O quando si vince Il concorso Il curriculum Che attesta La nostra vita professionale La nostra La nostra carriera Di studi Chiamiamola così C'è un attestato C'è un marchio Nel nostro cuore Paolo dirà Nessuno mi dia molestia Perché io porto Nella mia coscienza Nella mia carne Il marchio Di Cristo Che cos'era Questo marchio Di Cristo Il segno Di appartenenza Che lo spirito santo Timbra Scrive Firma Nei nostri cuori Ultimamente Si parla tanto Degli ultimi avvenimenti Veramente Si è sempre parlato Però forse perché Tutto quello che sta succedendo Nel mondo Ci spinge A informarci A studiare Forse ad avere anche Un po' di timore Molti chiedono Ma qual è il segno Il marchio Della bestia Dell'anticristo Microchip 666 Tante cose Che possono essere Anche affascinanti Da un certo punto di vista Scatologico Ma che alla fine Non sono pratici Perché io credo Che la parola di Dio È chiara La parola di Dio Dice che Dio Ha salvato La sua chiesa E quando dico Chiesa Dico chiesa Con la C maiuscola Quindi non parlo Di denominazione Non parlo Di gruppi religiosi Non parlo Se sono chiese In casa Chiese In locali di culto Se sono 4-5 credenti Che si riuniscono O 4-5.000 credenti La sua chiesa Cioè l'insieme Delle persone Che Dio Conosce come sue Perché le ha riscattate Le ha salvate E ha messo un marchio Queste persone Sono gli eletti Chi sono gli eletti Sono l'insieme Dei cristiani Di tutti i tempi Che magari In Antico Testamento Non si chiamavano cristiani Perché Gesù non c'era Ma sono tutte quelle persone Che hanno perseverato Fino alla fine Con fede In Dio Questi eletti Quelli che saranno viventi E quelli che sono viventi Non possono essere Sviati Infatti è scritto Gesù dice Nel discorso profetico In uno dei Vangeli Dice Che ci saranno segni E prodigi bugiardi Falsi Falsi cristi Che con le loro Menzogne Potrebbero Deviare Se fosse possibile Sviare Anche gli eletti Questo se fosse possibile Non è un'ipotesi Ma esattamente Una certezza Vuole dire Che non è possibile Che gli eletti Vengano sviati Certo Dobbiamo essere perseveranti Assolutamente Noi non crediamo Che la salvezza Non si possa perdere Crediamo che Dio Non toglie la grazia Ma crediamo anche Che noi dobbiamo essere Perseveranti Fino alla fine Chi avrà creduto Avrà perseverato Fino alla fine Sarà salvato E quando Dio ci salva Mette dentro di noi L'attestazione Siamo figli di Dio Quindi Qual è l'effetto Prima di tutto Non siamo più servi Non siamo più schiavi Quando tu sei salvato Non sei più schiavo Non sei più schiavo Dei peccati Dei vizi Delle catene Questo non vuol dire Questo non vuol dire Che siamo perfetti Questo non vuol dire Che a volte Qualche cattiva abitudine Non torni fuori Come una radice Di amarezza Che è rimasta dentro Che noi dobbiamo provvedere Per mezzo della confessione a Dio Però nel momento in cui Dio ti vivifica Ti libera Ti salva Tu Dio Non lo vedi più Come un giudice Per te Dio è Abba Padre E lo Spirito Santo Lo attesta Insieme al nostro spirito Cioè C'è un contatto Tra il nostro spirito Vivificato E lo spirito Della vita Vi ricordate Non so per chi La guardate Queste puntate Per chi O per chi Ha letto L'epistola Di ebrei Dice che La legge Non poteva portare vita Portava condanna Perché non aveva Il potere di farlo Diceva cosa dovevamo fare Ma non ci dava modo Di farlo Poi è arrivata La grazia La grazia ha pagato Questo debito Ha pagato il debito Della legge E ha vivificato La nostra vita Ha portato vita Ha portato gioia Il figlio di Dio È gioioso Il figlio di Dio Ha una certezza Se Dio è per noi Chi sarà contro di noi La lettera ai Romani Capitolo 8 Finisce dicendo Che nessuno O niente Ci potrà Separare Dall'amore di Dio Dio ha fatto un'opera Di amore Nella tua vita Voglio parlare Singolarmente Ad ogni credente Che oggi forse vive Un problema Una frustrazione È ricaduto In qualche peccato Confessa Confessa a Dio Tu sei figlio di Dio Non c'è Una famiglia sana Dove Dove un figlio Sbaglia Non ci sia Fosse anche Il rimprovero La disciplina Ma subito dopo L'accoglimento Il perdono L'amore Viviamo in un rapporto D'amore con Dio Non siamo più i servi Certo che siamo servi Dal punto di vista Del servizio Ma Gesù dice Io non vi chiamo più servi Io vi chiamo amici Perché vi faccio sapere E come ci fa sapere il Signore Attraverso la Bibbia Certamente E attraverso la rivelazione Dello Spirito Santo Che attenzione Non rivela cose diverse Dalla parola di Dio Io Dubito di coloro Che hanno rivelazioni Che non sono In conformità Con la Bibbia Quindi Gesù ha detto Prenderà del mio E ve lo annuncerà Non parla di suo Perché Dio Padre Dio Figlio Dio Spirito Santo Ricordiamoci Che sono un solo Dio E non ci possiamo contraddire Noi che siamo una sola creazione Io Non posso parlare E a meno che non sono insano di mente Un secondo dopo Un mese dopo Dire una cosa Che è contraria A quello che Che ho detto Certo a volte Gli uomini sono incoerenti Ma Dio non è incoerente Quindi se Dio dice Che tu sei salvato Se lo Spirito Santo Ti attesta Che tu sei un figlio di Dio L'unica cosa che puoi fare Nel tuo dubbio Se questo dubbio arriva È quello che dice Paolo E Corinzi Mettetevi alla prova E vedete Se siete ancora nella fede Che significa Mettetevi alla prova Mica significa fare un test Andare a un pastore E dire Ma tu che dici Sono ancora salvato No, no, no Continuare A chiedere Allo Spirito Santo Di mettere in noi La gioia della salvezza Quella che Davide aveva perso E che nel Salmo 51 Chiede Signore rendimi La gioia della salvezza E uno spirito Volenteroso Mi sostenga Ecco qua Lo Spirito Santo Che viene in aiuto Lo vedremo dopo A coloro che sono Nella debolezza Soffrono E hanno bisogno Lo Spirito stesso Attesta Insieme Con il nostro Spirito Che siamo figli di Dio E questa è una cosa Meravigliosa Pensaci Fratello, sorella Anche tu credente E perché no Io non so se Qualche ministro Qualche pastore Qualche apostolo Così Guarderà Voglio fare di questo Primo punto Un punto di riflessione Tu devi sapere Chi sei Tu non sei come I figli di questo Un certo sceva Che andarono E questo è scritto Nel libro degli atti A un uomo posseduto E dissero Per quel Gesù Che Paolo predica Noi ti Diciamo di uscire Da quest'uomo E gli spiriti Che hanno detto Quest'uomo Dissero Noi sappiamo Chi è Gesù Conosciamo Paolo Ma voi chi siete Ma che cosa brutta Quando non siamo conosciuti All'inferno E non siamo conosciuti Neanche nel regno dei cieli Siamo nella terra di mezzo Non siamo nulla Religiosi Illusi Tu devi sapere Chi sei Tu devi sapere Molto bene Una cosa so Dice quel cieco Appena liberato Appena guarito Una cosa so Lui sapeva una cosa Che ero cieco E ora ci vedo Quando poi gli chiesero Informazioni Gli disse Beh a me non mi risulta Che Dio risponda A uomini peccatori Ma chi È giusto E fa la volontà di Dio È accetto da Dio Che teologia Devastante Per tutte le certezze Ipocrite Farisaiche Nella religione di allora Sai chi sei Hai Diciamo così Un momento nella tua vita In cui la tua vita è cambiata Sono stato Crocifisso Con Cristo Dice Paolo E non sono più io Che vivo Ma è Cristo Che vive In me E se Cristo vive in noi Non solo lo sappiamo noi Non solo lo sa il diavolo Non solo lo sa il regno dei cieli Ma lo sanno pure gli altri Quando L'indemonato L'indemonato di Gerasa Fu guarito da Gesù Lui che era sempre stato Tollerato Da quella regione Spaventò Questa È l'ironia Della vita cristiana È l'assurdo È il paradosso Finché era posseduto Finché era un pazzo Che veniva guidato dai demoni Era normale che Si sapesse che c'era un uomo In questa situazione Quando lo videro Sano di mente Vestito E finalmente fermo Seduto Quest'uomo non aveva trovato pace Si spaventarono Guarda che Fratello caro La vita che Cristo ha messo Nella tua vita Nella tua Nuova nascita Nel tuo cuore Potrà attirare l'attenzione Di molti Ma spaventerà gli altri Perché questo mondo È così posseduto Dallo spirito dell'anticristo E non siamo ancora alla fine E non siamo ancora Alla manifestazione Dell'uomo del peccato Che quando ci sono persone Che vivono la vita cristiana Come bisogna vivere Fanno paura E quasi quasi Vorrebbero allontanarci Abba padre Potrai sempre dire Addio Abba padre Anche se ti trovi Nella situazione Del filo al prodigo Esci da quel fango Prendi Consapevolezza Del peccato Alzati Vai da tuo padre E digli Abba padre Ho peccato contro di te E vedrai che l'amore di Cristo Perché quel padre Non smise mai Di essere padre E quel figlio Non smise di essere figlio Certo Purtroppo Non tutti I filo al prodighi Tornano indietro Ma se oggi Sei un po' lontano Dal Signore Sappi che Se non lo hai rinnegato Cioè se non hai rinnegato Cristo Gesù E sei ancora vivo Puoi tornare a Lui E dire Signore Per quello spirito Che è entrato nel mio cuore Che mi ha dato diritto Di essere figli di Dio Perché è un diritto Giovanni dice Vedete di quale amore Un diritto d'amore Non è un diritto Sancito da una legge Vedete di quale amore È stato largo Il padre Dandovi Di essere chiamati Fili di Dio E tali siamo Per questo Il mondo non ci riconosce È importante Se soffri Perché il mondo Non ti riconosce Vuol dire che Veramente sei nato Di nuovo A meno che non sei Un bigotto Un fanatico Ma non voglio pensare Che tu sia questo Il secondo punto In relazione Alla nostra vita cristiana Il versetto 12 Di Romani 8 13 e 14 Dicono così Dunque fratelli Non siamo debitori Alla carne Per vivere Secondo la carne Perché se vivete Secondo la carne Voi morrete Ma se mediante Lo spirito Fate morire Le opere del corpo Voi vivrete Infatti tutti quelli Che sono guidati Dallo spirito di Dio Sono figli di Dio E qui Entriamo In qualcosa Che penso Tocchi a tutti C'è un contrasto Tra la carne E lo spirito Ora noi siamo stati Liberati Dalla schiavitù Del peccato Però facciamo attenzione A non diventare Debitori Il debito Verso la carne È un po' come Lo strozzinaggio Chi purtroppo È caduto Costretto Disperato Dai debiti A chiedere soldi In prestito A persone Che sono Malavitosi Sa che Quei soldi Sono stati L'inizio Della fine Perché forse Hanno pagato Un debito Ma ne hanno acceso Cioè hanno sanato Una situazione Momentanea Un bisogno Immediato Ma hanno acceso Un debito Che non si estinguerà Mai più Fino a quando La persona Che in maniera Malvagia Presta questi soldi Con interessi Di usura Altissimi Vorrà tutto da noi Vorrà persino La nostra vita stessa Questo avviene Nello spirito Quando noi Cadiamo In vecchi vizi O perseveriamo Pur essendo figlioli di Dio Attenzione Eh Può succedere Per qualcuno Sembra strano Credetemi Non lo è Ho conosciuto Tanti Credenti Tanti Diversi credenti Veramente Nati di nuovo Però Che non erano Cresciuti Non avevano dato Seguito Alla vita Nello spirito Come dice Il testo Che abbiamo letto Non avevano fatto Morire Le opere Del corpo Mediante Lo spirito Cioè Non avevano Nutrito In maniera Continuativa Il loro rapporto Con lo spirito Pensando Non so per quale motivo Non biblico Che una volta salvati E magari battezzati Con lo spirito santo Potessero Vivere Così Di interessi Vivere di rendita No Il nostro rapporto Con lo spirito santo In relazione Alla nostra vita Cristiana È un rapporto Quotidiano Credo Che nessun genitore Così pazzo Da dire Bene Soprattutto alle mamme Ho svezzato Mio figlio Adesso lo posso lasciare Per conto suo Crescerà Non so per quale Per quale Processo Biologico No Ogni giorno Anzi Più il ragazzo Cresce E più la dieta Sarà commisurata Ai bisogni No Le proteine Le vitamine Tutte quelle sostanze Che fanno bene Alla crescita Mentale E fisica E la domanda è questa Ma Noi stiamo crescendo Stiamo portando frutto Le opere Della carne Possono morire Se noi Togliamo Carne A queste opere Cioè Non le cibiamo Ma come possiamo farlo Con le nostre forze Assolutamente no E proprio nel capitolo 7 L'abbiamo visto Nella prima puntata Paolo È disperato È disperato Perché lui vuole fare Delle cose ben chiare Nella sua mente Questo è l'inganno Che noi pensiamo Che avendo chiara La dottrina E avendo magari Anche detto Sì sì Io sono peccatore Io Cado sempre in questo vizio Devo cambiare Ma Se a questo cambiamento Non c'è un seguito Non c'è una trasformazione Di gloria in gloria Di spirito in spirito Mediante lo spirito santo E se non facciamo morire Le opere del corpo Cioè Non le nutriamo Nella seconda puntata Abbiamo visto Che proprio Le opere della carne Vengono nutrite Con i pensieri Che poi diventano Ragionamenti Che poi diventano Stili di vita E poi diventano opere Signore aiutaci Ad avere un rapporto Una guida Lo spirito santo Ci vuole guidare È un pungolo Per noi Oggi leggevo Una meditazione Bellissima Di Oswald Chambers In quel libro Meraviglioso Che è il mio impegno Per l'altissimo E diceva che Sentire la guida Dello spirito santo Non è facile Non è da tutti Purtroppo non tutti Ci riescono Ma non perché Lo spirito santo Faccia distinzione Non perché È una questione Di Distruzione O di teologia È perché La voce Dello spirito santo È così dolce E sommessa Che noi dovremmo Spegnere i nostri pensieri Innanzitutto Noi dovremmo Passare del tempo Con lui E noi dovremmo Evitare Che il rumore Dei nostri pensieri Ci impedisca Di ascoltare La voce Dello spirito santo Che ci guida Che ci indica Non solo La differenza Tra il bene E il male Ma come ha detto Spurgeon una volta In uno studio Il discernimento Della volontà di Dio È la differenza Non tanto Tra il bene E il male Perché un cristiano Non ucciderà Non ruberà Non commetterà Ad ulterio Volontariamente Ma la differenza Tra ciò che è buono E ciò che sembra Buono A volte La nostra vita Non è esuberante Non è una vita Vittoriosa Non solo perché E non tanto Perché ci sono Le sofferenze E le prove Quelle ci sono Anche nei cristiani Che crescono Anzi Più cresciamo Spiritualmente parlando È perché più siamo provati Giacomo lo dice Ma lo vediamo dopo Ma perché non lasciamo Che il frutto Dello spirito Maturi in noi Ci sono due tipi di vite Intendo l'albero C'è la vite Che porta il frutto Che noi conosciamo bene L'uva Il vino E poi c'è un tipo di vite Che si chiama vite canadese E io mi ha Mi ha sempre colpito Questo Questa pianta Rampicante Perché ce l'avevo Sotto casa mia Tanti anni fa Quando ero piccolino Era bella D'autunno Diventava tutta rossa Noi prendevamo Le piccole bacche E ci giocavamo Ma assolutamente Erano frutti Che non si potevano mangiare Erano tossici Avevano un bel esteriore Piccolini Rossi Sembravano attraenti Ma erano tossici Noi non vogliamo Avere una vita cristiana Tossica Fare Frutti apparenti Ma poi quando Gesù si avvicina a noi E sapete Quando Gesù Si avvicina a noi Come nel parabola Del fico Quando Ci manda delle persone Che mettono alla prova Il nostro carattere Quando Ci manda persone Da aiutare Quando Ci apre delle strade Per delle opere Buone Che i figli di Dio Devono compiere Quale effetto Della salvezza Per dimostrare Al mondo Che c'è l'amore Di Cristo In noi L'amore L'amore non si dice L'amore si dimostra E dopo possiamo anche dire Una parola buona Che edifichi Che conferisca grazia In tutto questo L'opera dello Spirito Santo Fa un'opera Scusate La guida Dello Spirito Santo Fa un'opera Meravigliosa Perché dice Il versetto 14 Quelli Che sono Guidati Dallo Spirito Di Dio Sono figli di Dio Quindi non è soltanto Una questione Di nuova nascita Ma è anche Di crescita Di mortificazione Delle opere Della carne E poi Di guida Dello Spirito Santo Quindi Se in relazione Alla salvezza Lo Spirito Dà vita Lo Spirito Permette L'adozione Quali figli Di Dio E lo Spirito Attesta Che siamo Fili di Dio Ci dà una certezza Interiore Lo Spirito Santo Attesta Al nostro Spirito Nella questione Della nostra vita Cristiana Lo Spirito Ci aiuta A rinunciare Come dice Paolo a Tito La grazia Si è manifestata E ci aiuta A rinunciare All'empietà Per vivere Una vita Che sia santa Gradita Lecita Agli occhi Di Dio Da solo Non ce la possiamo fare Non ce la posso fare Ho bisogno Della guida Dello Spirito Santo Ho bisogno Di pensare In maniera spirituale Ho bisogno Che lo Spirito Santo Come dice Paolo Ai Corinzi La nostra predicazione Fa in modo Che Cristo Posa fare Prigionieri I nostri pensieri Per sottometterli Alla grazia E iniziare A pensare Secondo la mente Di Cristo Abbiate in voi Lo stesso sentimento Di Cristo Gesù Paolo dice I filippesi Capitolo 4 Versetto 8 Tutte le cose buone Onorevoli Che abbiano qualche Buona fama Eccetera eccetera Siano l'oggetto Dei vostri pensieri Dopo che ha parlato Della preghiera E la preghiera Che trasforma La nostra mentalità Nella preghiera Noi non chiediamo A Dio sempre Qual è la sua volontà O cerchiamo di capirla O magari anche Di cambiare La sua volontà C'è qualcuno Che è così presuntuoso Che dice Che può pregare Per cambiare La volontà di Dio La volontà di Dio Non cambia Siamo noi Che dobbiamo cambiare Siamo noi Che dobbiamo essere Trasformati Nella mente Nello spirito E le nostre opere Devono essere Il risultato Quindi tutti quelli Che sono guidati Dallo spirito di Dio Sono figli di Dio Mi fermo giusto Qualche secondo Non so se Il fratello Michele Vuole aggiungere qualcosa Vuole fare delle riflessioni Sì Viene spontaneo Pensare All'opera completa Della grazia Di Cristo Che Tiene conto Sostanzialmente Questo è quanto È emerso Anche dal tuo approfondimento Pastore Tiene conto Della nostra disponibilità Della nostra prontezza A riconoscere Non solo I propri limiti Ma anche A farsi lavorare Da questo amore Da questo amore Che hai tanto citato Un lavoro Preciso Diretto Di santificazione Che inizia Dalla nostra disponibilità Ma che finisce Sostanzialmente Con la potenza Dell'Evangelo Che Attraverso L'amore Stesso Lava E anche Purifica Le vite Dell'uomo Soprattutto Innanzitutto Prima di ogni altra cosa Passando anche Attraverso Una Valore Concentrato E detenuto All'interno Del sacrificio Costante Dei propri Corpi E' meraviglioso Anche pensare L'elemento Del fisico Del corpo Così come Anche Come dire Tempio Principale Della manifestazione Del peccato Dell'uomo Ma che Grazie all'amore All'azione Dell'amore Di Cristo Diventa Il tempio Dello Spirito Santo Un posto Dove Si manifesta L'amore di Dio E che Anche si Santifica Quindi Si trasforma Qui La trasformazione Esteriore Del corpo Che ovviamente Come appunto Dicevi Nell'ultimo pezzo Parte proprio Dalla Santificazione Anche dalla Trasformazione Di una mente Una mente Che ha completamente Trasformato Ecco I propri Impulsi La propria Motivazione E' meraviglioso Scoprire Anche quanto Il Signore Ha fatto Proprio In virtù Della sua Paternità Con i suoi figli E' meraviglioso Grazie Per le perle Che stai Condividendo Con noi Ti chiediamo Di continuare Ad andare Avanti E continuiamo A seguirti In questo viaggio Che si sta Volgendo Verso La centralità Quindi Il finale Del capitolo Della concentrazione Del capitolo 8 Prego Grazie Michele Allora La terza parte Quella un po' più scomoda No In relazione Alla sofferenza Il versetto Il versetto 17 Comporta Comporta Una responsabilità Il Signore Ci ha detto Prima Se voi Volete essere Miei seguaci Sappiate che Vi aspetta Tutto questo Sacrificare Voi stessi Rinunciare A voi stessi Mettere L'amore Verso di me Al di sopra Di ogni Altro tipo Di amore E questo Ha anche una sua logica Io posso amare La mia famiglia In maniera Giusta In maniera Spirituale In maniera degna Ci sono tante persone Che amano le proprie famiglie Pur non essendo cristiani O essendo di un'altra religione Sia ben chiaro C'è tanta gente Che si ama Veramente Pur non avendo fede Però attenzione Qual è la differenza Che l'amore naturale Ha un limite Pensa E agisce Soltanto nella sfera Morale E materiale Un perfetto padre Di famiglia Non cristiano Lavora Ama Per la sua famiglia Ama la sua famiglia Lavora per la sua famiglia Ma non si preoccupa Del benessere spirituale La nostra responsabilità Invece È anche quella Quindi Non siamo Migliori Degli altri Noi non siamo Uomini Dal punto di vista umano Migliori degli altri Più bravi degli altri Perché qualche volta Abbiamo visto persone Che Alle quali abbiamo detto Una famosa frase È così brava questa persona Gli manca solo la grazia Di Cristo Dici niente Gli manca tutto Però Quando noi Gesù diceva Se uno vuole venire dietro a me Rinuncia a se stesso Ami Me Più che se stesso La propria famiglia I propri beni Il proprio lavoro E quant'altro Se vi perseguiteranno È perché L'hanno fatto con me Ma se vi ascolteranno Se accetteranno La vostra parola Sarà perché L'hanno fatto anche Nei miei confronti Perché la nostra parola È la parola di Cristo Quindi noi Il momento in cui Diventiamo cristiani Riceviamo Un'eredità Che è anche Sofferenza Paolo lo dice Io voglio Completare Nel mio corpo La sofferenza di Cristo Perché dice questo Non perché Cristo Non ha sofferto abbastanza Per Per tutta l'umanità Che poi Eventualmente Quella parte Avrà accettato Il suo sacrificio No Paolo dice che In un certo senso Completare Non è perché È insufficiente Il sacrificio di Cristo Ma perché lui Sta continuando Il lavoro di Gesù E lui sa Che quando noi E ce lo dice Quando noi Lavoriamo Soffriamo Perché ci scontriamo Con le tenebre Figliolo di Dio Che sei All'ascolto Che ascolterai Questa trasmissione La guarderai Fra qualche giorno Fra qualche ora Non ti devi meravigliare Non mi devo meravigliare Se sono contrastato Se soffro Se ci sono prove Difficoltà Ma devi sapere Una cosa E devo essere Consapevole di questo Nell'eredità Che Cristo Ha preparato per me C'è anche Consolazione C'è anche guarigione C'è anche vittoria C'è anche Rialzamento Quando cadiamo Ecco perché Il versetto 26 Il versetto 27 Dicono due cose Meravigliose Allo stesso modo Ancora Però adesso vi dirò Perché dice Paolo Allo stesso modo Lo spirito Viene in aiuto Alla nostra debolezza Perché non sappiamo Pregare come si conviene Ma lo spirito Intercede Egli stesso Per noi Con sospiri Ineffabili E colui che esamina I cuori Sa Quale sia il desiderio Il versetto 27 Dello spirito Perché egli intercede Per i santi Secondo il volere Di Dio Diciamo qualcosa Prima di questi versetti Paolo parla Della creazione E dei figli di Dio Pensate un po' Sia la creazione E sia Le creature Che sono diventate Una nuova creazione Che sono in travaglio E gemono Aspettando la redenzione Del corpo Persino la natura Geme Che sia corpo Celeste Terrestre Biologico O corpo spirituale Tutti quanti noi Non vediamo l'ora Di essere trasformati Di avere un corpo nuovo Questa sofferenza Dice Paolo Produce Un'attesa Paziente E fiduciosa Cioè Noi non siamo Come i condannati a morte Che aspettano L'esecuzione Quindi in un certo senso Una sorta di liberazione Dalla paura Da giudizio E dalla sofferenza No Noi siamo figli di Dio Noi soffriamo Con una tale dignità Per cui la nostra sofferenza Produce Questo è bello Cioè Comprendo Quello che potete pensare Proprio bello Non è soffrire Però guardatela Guardiamola A scanso di equivoci Vi dico che questo è un anno Per me Che è stato molto Di sofferenza Però ora Arrivati al 13 Al Mese di agosto Possiamo Affermare E posso affermare Che tutto quello Che il Signore permette A livello di sofferenza Di prove Di difficoltà Produce Già come lo dice Guardate Le prove Che vi affliggono Come un argomento Di completa gioia Sapendo Che la sofferenza Produce costanza E la costanza Opera In voi Una crescita Produce qualcosa Allora Paolo sta dicendo Il figliuolo di Dio Che soffre Pietro dirà Quelli che soffrono Affidino Le loro anime Il Signore Soffrite Sapendo che tanti Nel mondo Stanno attraversando Le stesse vostre sofferenze Quindi sappi una cosa Fratello sorella cara Che tu non sei da solo Non sei assolutamente da solo Lo Spirito Santo Sa Quello che stai attraversando Ecco perché viene Non solo lo Spirito Santo Viene in aiuto Alla nostra debolezza Gesù Cristo Intercede alla destra del Padre Il Padre stesso Ti ama E poi c'è C'è una Chiesa C'è un insieme di testimoni Dice Scrive Ebrei capitolo 12 Un insieme di testimoni Che fa il tifo per noi Diciamo così Quindi Non siamo da soli E pertanto Il credente In un'attesa paziente Fiduciosa Attende qualcosa Che deve arrivare Anche se ancora non si vede Qual è la retenzione del corpo Cioè la trasformazione Ogni tanto alziamo gli occhi Ai monti Per vedere che la nostra Redenzione è vicina Gesù dirà Quando tante di quelle cose Che io vi sto dicendo Come doglie di parto Di una donna che sta a partorire Ecco perché si parla Della Diciamo così Della creazione Che geme Ed è in travaglio Il travaglio è tipico Di chi sta per partorire No È una Non è una sofferenza In attesa della morte È una sofferenza In attesa di una nuova vita Ecco Quando noi attendiamo così Possiamo avere un'attesa Probabilmente sofferente Ma anche gioiosa E soprattutto Che ci aiuta a perseverare Lo Spirito Santo Conosce questa debolezza Che ci affligge Quindi ci aiuta Nella preghiera Perché parla di preghiera Paolo Non poteva parlare Di liberazione Di Di aiuto Dei fratelli No perché Nella preghiera Noi ci lasciamo Scrutare da Dio Davide dice In un salmo Esaminami o Dio Mettimi alla prova Vedi se in me C'è qualche via iniqua E guidami per la via eterna Lasciati scrutare da Dio Apri il suo cuore In sua presenza È scritto ancora in un salmo Così mentre tutta la nostra sofferenza Mista La nostra adorazione La migliore adorazione Fratelli cari È quella che viene da un cuore Che soffre La lode Fuoriesce Come un fiume Il cuore rotto Sul quale il Signore Poggia il suo sguardo Vi ricordo È scritto in Isaia Ci porta davanti Alla presenza di Dio Lo Spirito Santo Ci viene in aiuto Letteralmente Si prende carico Della nostra fragilità Lui è al nostro fianco E rende l'opera di Cristo Pertanto attuale Ed efficace Voglio farvi due esempi La mamma di Samuele Lei si reca al Tempio Nonostante il suo peso La sua sofferenza Il suo digiuno Non mangiava Chissà da quanto Prega Apre il suo cuore Davanti al Signore Fa uscire tutta la sua amarezza Lo dice anche Adeli Non sono ubriaca Stavo solo portando Tutta la mia amarezza Di mamma mancata Donna sterile Davanti a Dio E c'è scritto che Lei si aprì davanti al Signore Pregò Tornò a casa Ancora prima Dell'intervento di Dio È scritto che Il suo aspetto Non fu più Come quello Di prima Così era successo Lo Spirito Santo Possiamo dirlo Assolutamente Conoscendo la sua afflizione La sua debolezza Era entrato nel suo cuore Lo aveva rotto Questo cuore Lo aveva aperto Lei aveva sparso Le sue lacrime Davanti alla presenza di Dio E Dio aveva ascoltato Quella preghiera Dopo qualche mese Dopo un anno Viene alla luce Samuele Il cui nome significa L'ho chiesto A Dio Io voglio dirti Che c'è un Samuele Che Dio sta preparando Per la tua vita E la tua sofferenza Non è sterile La tua sofferenza Produce Un peso Smisurato Di gloria Dice Paolo Mentre abbiamo Lo sguardo Non alle cose Che si vedono Ma a quelle Che non si vedono Ecco la differenza Tra chi ha fede E chi non ce l'ha Chi non ha fede Guarda la sua sofferenza Come una punizione Come una punizione E chiede a Dio Di intervenire E di toglierla Ma non sempre accade questo La persona che invece è fiduciosa Anche se soffre La persona fragile Ma che ha fiducia Nell'iddio dell'impossibile Dirà Io so che questa sofferenza E scoprirà Un domani Che questa sofferenza Produce consolazione Anche risposta alla preghiera E produce di più Di quello che uno ci si aspetta Perché vi voglio ricordare Che Elcana ed Anna Non ebbero soltanto un figlio Ne ebbero ben sei E Samuele Fu un uomo Grandemente usato Dal Signore E scritto che Tutto Israele Riconobbe Che Samuele Era il profeta Dell'Eterno Quindi per mezzo Dell'intercessione Che lo Spirito Santo opera Possiamo pregare Come si conviene Perché noi non sappiamo pregare Quando noi preghiamo Molte volte Ci lasciamo guidare Dalle emozioni Le emozioni sono Sono così Non sono molto affidabili Ecco perché Paolo dice Quando pregate Chiedete Intercedete Supplicate Però a un certo punto dice Ringraziate Questo aspetto è importante Il ringraziamento è importante Perché devo ringraziare Se ancora non ho ricevuto Perché il ringraziamento Nella preghiera È opera della fede Cioè io vedo Per mezzo della preghiera Dello Spirito Santo Che intercede per noi Davanti Al trono di Dio Secondo Attenzione Secondo il desiderio E la volontà Di Dio Secondo il desiderio Dello Spirito E la volontà di Dio Pensate un po' Non dice Secondo il desiderio Di chi prega E quando noi preghiamo In questa maniera Spirituale Noi già vediamo Il cielo aperto E vediamo La risposta di Dio La risposta di Dio Arriva già Ancora prima Che si materializzi E lo dice Paolo Filippesi 4 7 Proprio lì Dove dice Tutte le vostre preghiere Siano portate davanti a Dio Con suppliche Ringraziamento E la pace di Dio Che sopravanza Ogni intelligenza Custodirà I vostri pensieri E i vostri sentimenti In Cristo Gesù Quando preghi Ricevi Risposta E la risposta È la pace Non ti alzare Dico non ti alzare Per dire Magari preghi in ginocchio Seduto Come vuoi Anche in piedi Valgono le preghiere in piedi Pur che siano Pur che il nostro corpo Si umili davanti al Signore Cioè scusate Il nostro cuore Si umili davanti al Signore Ma il risultato finale È la pace La pace di Dio Quanto è importante Fratelli Ricevere pace di Dio Che tra le altre cose È uno dei frutti È uno del frutto È un aspetto del frutto Perdonatemi Dello Spirito Santo Pace non soltanto Con Dio Ma la pace di Dio Cioè la sua pace Quella che Gesù ha lasciato Alla sua Chiesa Arriva per mezzo Dello Spirito Santo Anche a noi E voglio chiudere Questa Questa serie di Diciamo così Di meditazioni Su Romani 8 Con qualche incoraggiamento Uno Caro fratello Cara sorella Se non conosci Tutti gli aspetti Della volontà di Dio Lo Spirito Ti solleva Da questo peso E intercede per te E intercede per te Porta la preghiera Dal carnale Allo spirituale Quindi anche se non capisci tutto Quello che Dio vuole fare per te Come abbiamo letto Lo Spirito Santo ti guida Quindi lascia ti guidare Seconda cosa Nella sofferenza Lo Spirito di Dio Non viene per accusarci O per toccare I punti deboli Della nostra vita Ma è per noi Ci comprende Non ci giudica Terzo L'opera dello Spirito Ci aiuta A comprendere E realizzare Consolazione Rivelazione E pace Nel cuore Quando preghiamo Diciamo Signore rivelati Signore Metti pace nel mio cuore Consolami Perché Forse Il mio problema Non sarà sparito Come per incanto Ma avrò una tale pace nel cuore Che possa affrontare Tutto Nella stessa maniera Di come Gesù Affrontò la morte Quando uscì dal Getsemani Accettando Che quello Era l'incarico Era il compito Era la volontà di Dio Quarto Nella debolezza Della nostra fede Lo Spirito Santo Viene a fortificare Il nostro spirito Per questo Siamo fortificati Lo Spirito Santo Dà forza Non è soltanto Qualcosa così Di teorico Ma è qualcosa di molto pratico E per ultimo Dio ci ascolta Dico una cosa Evidente Chiara Forse Diciamo così Come posso dire Una cosa che È normale Comprensibile È evidente Però Lo voglio ribadire Dio ci ascolta Non è sordo E non è lontano da noi Però dice una cosa Isaia Che Dio poggia lo sguardo Su colui che trema Davanti alla sua parola Quindi timore di Dio Che ha il cuore rotto Quindi che si apre Davanti a Dio E lo spirito contrito Cioè Ha uno spirito Che teme di peccare Quindi uno spirito Che vuole essere ravvivato Che il Signore ci aiuti A coltivare La nostra relazione Con lo spirito santo Che come abbiamo Detto questa sera Non solo porta adozione Non solo porta vita Spirituale Vuole anche guidare Ci vuole aiutare A vivere Costantemente Tranne cadute Momentanee Ma dalle quali Ci rialziamo subito Guidare Dallo Essere guidati Dallo spirito di Dio Perché siamo figli di Dio Viene in aiuto Alla nostra debolezza Intercede Egli stesso Per noi Quanti aspetti meravigliosi Che il Signore possa dare luce Anche su altre cose Che non ho potuto Per tanti motivi Dire in queste tre puntate E io vi saluto Con l'amore E con la pace Di Cristo Gesù Dio vi benedica grandemente Grazie Pastore Ubaldo Grazie per questa condivisione Molto ricca Di incoraggiamento E anche di direzione Noi ringraziamo il Signore Per questa possibilità Che ci ha dato Anche attraverso La tua sensibilità Intorno al tema E ti ringraziamo Calorosamente Lo faccio anche a nome Di tutti I nostri amici Che da casa Ci hanno seguito In queste puntate E preghiamo Affinché Dio continui A benedire la tua vita La tua famiglia E le famiglie Che ti ha affidato Grazie di vero cuore Di aver condiviso Questa sensibilità Insieme Per la crescita Della Chiesa in Italia Dio di benedica Pastore Amen Vi saluto tutti quanti Con la pace La gioia del Signore Grazie Michele Per la tua disponibilità E tutto lo staff Insomma Dello studio E Dio vi benedica Amen Grazie Dio ci benedica insieme Grazie di cuore Vi ringrazio cari amici Per averci seguito E voglio ripetere Il nostro numero di telefono A cui potete mandare Le vostre domande E anche perché no Le richieste di contatto Col Pastore Per approfondire È il 379 27 108 54 Potete tranquillamente inviare Un messaggio Whatsapp E anche una mail Eventualmente A redazione Chioccia La parole di vita Punto org Stiamo raccogliendo Anche diverse altre segnalazioni Domande Approfondimenti Ed è bello Ecco Avere e vivere Un'interattività Utile Per la crescita Delle nostre vite Noi vi ringraziamo Vi diamo appuntamento A Dio piacendo Lunedì Con un nuovo appuntamento In diretta Sempre qui Sul vostro canale cristiano A Dio piacendo Sempre Insieme alle ore 12 Pace Shalom A Dio piacendo